ciao buona giornata ma la coscienza può esistere fuori dal corpo io dico di sé per qualcuno la coscienza non esiste né nel corpo né fuori dal corpo attenzione quindi se io dico che la coscienza esiste fuori dal corpo fuori dal corpo trovo l'opposizione di chi dice che esiste solo nel corpo o di chi dice ma di quale coscienza cos'è la coscienza non si sa la coscienza non esiste è un'espressione vaga esiste il cervello sistema nervoso i neuroni esiste la circolazione del sangue gli organi le cellule ma è già qualcosa chi accetta che esistono le cellule e che ogni giorno noi cambiamo rinnoviamo un miliardo due di cellule che basterebbe dire ogni giorno alle proprie cellule uno dà il comando lascio scorrere liberamente l'energia vitale in tutte le cellule il mio corpo il mio corpo è un luogo sacro io vivo in un luogo sacro mando amore buona energia alle cellule a tutte le cellule rinnovatevi con amore con gioia con forza assorbite l'energia cosmica fate buon uso dell'energia vitale la coscienza fuori dal corpo è stata studiata da poco c'è una parola che non parapsicologia cioè c'è la psicologia c'è l'ordine dei psicologi ma la parapsicologia si ci sono un paio di due tre organizzazioni nella cultura occidentale che la studiano però non si arriva mai alla conclusione no Jung aveva iniziato Carl Gustav Jung è uno psicologo psichiatra svizzero psicologo e psichiatra cioè la differenza lo psichiatra usa i farmaci lo psicologo no aveva iniziato gli studi sulla sincolicità come mai avvengono dei fenomeni di coincidenza significativa no succede a voi magari telefoni e quello dice ah ti stavo pensando oppure telefona qualcuno e tu gli dici ti stavo pensando soprattutto non uno che ha visto ieri uno che non vedevi da tempo quindi c'è questa coincidenza significativa la coscienza fuori dal corpo che fa vive e come vive a secondo di come abituata ho visto delle persone che fanno fatica quando viaggiano all'estero perché non sanno bene l'italiano parlano dialetto quindi è difficile tradurre dal dialetto all'inglese se uno dice te come stai questo te come lo tradurre cioè no how are you come stai tu come stai cioè devono tradurre ogni tanto dal dialetto all'italiano poi dall'italiano all'inglese fa più fatica quindi la coscienza fuori dal corpo bisogna vedere che lingua parla che abitudini ha una volta in un seminario sui viaggi astrali ho spiegato quello che io ritenevo una cosa giusta quando uno è in coma e vede se stesso nel letto e vuole fare un giro se è abituato in un certo modo esce dalla porta se invece vuole fare tipo Peter Pan esce dalla finestra se invece è un tipo deciso va dritto attraversa anche i muri e non gli fa niente attraversare i muri il problema è quando torna la coscienza nel corpo mi hanno detto molte infermiere che ci sono stati dei casi di persone che dopo l'anestesia totale andavano legati al letto perché si alzavano e volevano uscire dalla finestra e io ho spiegato a queste infermiere quello magari l'ha fatto durante l'anestesia totale perché quella che si chiama anestesia totale è un viaggio sciamanico è un viaggio fuori dal corpo per poter tagliare e cucire senza uccidere il corpo devi dare talmente l'anestesista è uno spacciatore di droghe in pratica è uno sciamano autorizzato è uno che usa delle droghe pesanti per paralizzare un corpo e può succedere che lo spirito essendo paralizzato nel corpo la coscienza la coscienza è la capacità dello spirito di vivere quindi lo spirito cosciente esce esce dalla finestra solo che quando è finita tutta l'anestesia magari gli viene voglia di uscire dalla finestra mi hanno detto molti infermiere e amiche che ascoltavano quello che dicevano nel seminario io ho fatto 5.000 conferenze quindi ho avuto anche persone che interessate a queste cose soprattutto chi lavorava in ospedale mi hanno raccontato cose interessanti c'è una che aveva assistito 2.000 persone che morivano progressivamente hanno malattie terminali ha visto tantissimi fenomeni classificati come paranormali ma all'ospedale non interessava lo studio paranormale dei moribondi questa è la realtà esisteva solo la possibilità di dare delle medicine palliative morfina o altre per prolungare di qualche settimana di qualche mese il corpo fisico più per i parenti che per il per il paziente ma non c'è stato uno studio io facendo seminari conferenze ho avuto un riscontro in America ci sono dei gruppi privati che hanno fatto delle ricerche più approfondite e hanno visto che cosa raccontava che ha fatto un viaggio fuori raccordo nel libro che vi consiglio incontro con la Chiara Luce cito uno di questi casi un russo cioè un russo una persona nata in Russia che lavorava all'ambasciata russa è morta in un incidente stradale attraversava la strada è morta allora per motivi politici essendo Russia bisogna fare autopsia allora prendono il corpo siccome è successo il venerdì l'hanno messo in una cella frigorifera in un ospedale dove è morto è morto in ospedale cioè morto ha cessato di respirare quindi l'hanno classificato morto però lunedì si faceva il test lunedì arrivano per aprirlo per vedere se fosse stato avvelenato insomma si chiama autopsia analisi di come sta messo dal punto di vista chimico il corpo e lui aveva l'occhio sbarrato allora siccome gli dava fastidio al medico che doveva fare dice agli assistenti non mi va di aprire la pancia di uno che mi guarda con l'occhio sbarrato chiudetegli gli occhi e non riuscivano a chiudere gli occhi non riuscivano quello guardava fisso e uno fa e se non fosse morto dice ma come è stato 48 ore congelato allora vabbè oh portiamolo in rianimazione l'hanno rianimato e lui ha raccontato cosa ha fatto in quelle 48 ore girava all'ospedale col corpo a stare e ha dato una prova oggettiva poi ha chiesto asilo politico non è più andato in Russia si è messo a studiare l'esperienza in inglese near death experience near death adesso ve lo scrivo NDE near death experience esperienza vicina alla morte che in italiano l'ha tradotto come esperienze di pre morte ha detto ad esempio nell'ospedale grande c'è un bambino che ha attacchi di asma ma in realtà è un ossicino di pollo che lui ha mangiato gli si è rimasto conficcato nella gola basterebbe fargli una piccola operazione e tirarglielo fuori sono andati a controllare c'era questo bambino che aveva attacchi di asma che aveva portato urgentemente ricoverato all'ospedale hanno visto che c'era proprio un frammento d'osso che gli irritava la gola e lui aveva attacchi di asma quindi ecco nel libro parlo di questo ma ci ho studiato io ho letto anche di centinaia centinaia di casi simili a questo quindi la coscienza fuori dal corpo vive come uno quando lascia il corpo continua a vivere attenzione alle abitudini c'è chi vede un essere di luce dice che è Gesù Cristo e comincia a parlare c'è chi vede un essere di luce dice la Madonna comincia a parlare c'è chi vede un essere di luce dice essere di luce vuol dire una silhouette dalla forma umana che è tutta luce e dice Dio e altri che dicono no ho visto degli esseri qualcuno dice che è un parente insomma ci sono varie cose però raccontano di questi incontri e qualcuno ha ricevuto delle informazioni da questi incontri o delle previsioni di avvenimenti che sarebbero successe ha scritto dei libri c'è tutta una letteratura su questo quello che dico io è la coscienza vive fuori dal corpo vive allora abituiamoci all'idea che prima di avere questo corpo eravamo disincarnati e un giorno torneremo a essere disincarnati poi cosa succede tra una morte e una rinascita può essere un momento di allucinazione stato allucinatorio dove uno ha la sindrome di astinenza da un corpo fisico per quello che molti metodi spirituali consigliano di astenersi dall'azione fisica io invece dico no asteniti dall'inutile però mangia con gusto sorridi con gusto se vuoi abbraccia se vuoi abbraccia con gusto ma sappi che poi finisce quindi io dico creiamo dei momenti meravigliosi da ricordare con amore perché io accetto il piacere perché lo dice l'antica filosofia indiana lo dice in quattro parole arta mantieniti in modo onesto dharma ricordati sempre che sei eterno per questo che si chiama sanatana dharma tu sei spirito eterno kama cerca il piacere che non crei effetti collaterali negativi cioè dolore e sofferenza in te e in altri non negare il piacere no il corpo è satana il diavolo va coperto no 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 e poi finale moksha quindi un viaggio una vacanza se vai in vacanza una settimana sappi che il settimo giorno è l'ultimo giorno se vai in quindici giorni il quindicesimo giorno è l'ultimo giorno non devi né piangere né esagerare è l'ultimo giorno di vacanza e rientri allora cosa succede tra la morte e la rinascita dipende dal livello di coscienza accettare che la coscienza esiste fuori dal corpo anche quando siamo nel corpo aiuta perché un giorno ci troveremo a essere coscienza fuori dal corpo cioè quel corpo non c'è più per quello che alcune culture orientali lo bruciano perché uno finché lo vede finché lo vede sviluppa attaccamento o vuole ricominciare è come una coppia se si separano è meglio che non abitano vicini di casa perché ogni volta che si vedono potrebbe essere un problema non è detto però potrebbe quindi nel separarsi dal corpo se il corpo viene bruciato meglio con gioia con amore il viaggio continua non abitano non abitano non abitano